Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi del posizionamento dei piedi nel rovescio a una mano. Nel caso di rovescio lungolinea, il piede sinistro dovrà essere parallelo alla linea di fondo e anche il piede destro. La distanza tra i piedi deve essere buona, l'impatto avverrà davanti al piede destro, braccio disteso, polso fermo. Nel caso invece di rovescio incrociato, il piede sinistro sarà sempre parallelo in fondo, il piede destro invece sarà a 45 gradi. L'impatto della palla avrà davanti al piede destro, sulla diagonale, polso fermo, braccio disteso. Importante che l'impatto non avvenga qui, ma deve avvenire qui, sulla diagonale. Questo ci permetterà poi di eseguire il colpo molto più facilmente. Ok, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima, ciao!